Come di sport? Ma tu sei uno sportivo Antonello? Sì, certo sono tifoso. No, 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 dimmi la verità. No, no, certo, se ho giocato anche a pallone, poi purtroppo per un incidente alla gamba... Antonello De Piero, certamente. No, perché io mi chiedevo, ma perché dico ha fatto un inno sulla Roma? Perché tu hai scritto... Allora mi chiedevo, dico, ma sarà uno sportivo, una cosa, una... E invece è proprio così. Sì, è proprio così perché è la mia squadra del cuore... Che cosa faresti per la Roma? Dimmi. No, dimmi che cosa... Niente, per il momento ho scritto una canzone. Senti, ma questo pezzo lo suonano sempre negli stadi, com'è la cosa? No, per il momento lo stadio non c'è, diciamo, perché l'inno ufficiale della Roma è grazie a Roma di venditi. E quello lo so, e il tuo? E il mio è il cuore giallorosso, ed appunto il titolo all'album, e niente, è la prima canzone del primo lato. Sì, ma dov'è che si può sentire questo pezzo? Allo stadio mai? In vendita nei negozi e anche per radio lo danno spesso. Guarda, c'è una sorpresa per Antonello. Allo stadio mai? C'è una sorpresa per Antonello. Questa canzone si può sentire anche qui. Si può sentire anche qui? Senti? Senti? Non sento. Senti? Non sento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono felice di ritornare da quest'altra parte e sono veramente, anzi, emozionatissimo. E soprattutto devo dire, ci tengo a precisare che come difficilmente succede veramente, è un concorso pulito. Questo lo posso dire io che ho vinto e è veramente un concorso pulito. Ti ringraziamo, ma questa era sottintesa, si vede proprio ad occhio, che è così. Allora, salutiamo Antonio De Piero. Il fatto di queste divise, diciamo, rossonere è stata una cosa che mi avete fatto a posto? E' un caso, è un caso, è un caso, non c'è, non c'è. Bene, grazie.